E' una conservatrice, non innova niente, è contro tutto, quindi va a finire che questa città si ferma. Sugli scontri anche secondo lei si poteva gestire diversamente la sicurezza? Di sicuro, di sicuro. Responsabilità della sindaca e anche di altri naturalmente, però grande responsabilità. Attraverso i media si fa una figura pessima, però comunque noi giovani alla fin fine tutto quello che succede in comune, quello che farei, quello che si programma, non lo sappiamo benissimo. Sugli scontri secondo lei si poteva fare diversamente? Insomma, su quello direi proprio di sì, soprattutto per quello ci ha fatto proprio una figura pessima. Adesso io non sono molto super informata, però per come era stata gestita tutta la storia di Piazza San Carlo, obiettivamente se sei un sindaco la prima cosa che ti viene in mente è controllare che ci siano delle uscite di emergenza decenti. Cioè è la prima cosa, se sai che comunque a Torino i tifosi della Juventus c'è una bella cifra, quindi dopo un po' è la prima cosa che devi pensare. Però comunque, oltre a quello, magari è stata anche lei circostanze sfortunate, non ci poteva fare niente. Ancora è stata forse un po' poco, diciamo, nella città, quindi ancora non so esprimermi, non ho un pensiero definito. A pelle? Boh, più o meno, va bene dai. Ma non lo so, non è che mi piace granché. Perché in particolare? Non lo so, fa tante cose che non vanno bene. Può fare un esempio di qualcosa che non le è piaciuto? Un esempio lì dove è successo questo, in Piazza San Carlo, lì, che è successo, non era ben organizzato. Ecco, tutto lì, perché si organizzava meglio e le cose andavano meglio. No, non la giudico, non mi piace giudicare le amministrazioni perché la vivo troppo dall'esterno e quindi preferisco avere un giudizio neutro. Io questa sindaca la rispetto innanzitutto come sindaco, non è del mio partito, io sono del PD. Speriamo che possa fare un qualcosa di positivo, ha dei problemi. Cominciamo dalla serata della Juve in cui è stata gestita male, alla movida di Santa Giulia in cui Taffaruli contro la forza degli ordini. Deve avere un po' di tempo per poter mettere le cose a posto. Un anno non basta? Già passato tempo, è poco, però comunque deve essere già un buon punto per far meglio. Non è che non piace, poverina, lei è il mandato che ha avuto, lo cerca di mantenere il più possibile. È logico che quando si fa una manifestazione, quello che è successo in Piazza San Carlo, lei non ne può neanche niente, perché se ci mettiamo a controllare tutti questi che vendono le bottigliette, è finita, non c'è personale che basti. Le lasciamo lavorare? Diciamo che secondo me il lavoro del sindaco non è una cosa che è molto facile da giudicare, soprattutto perché, ad esempio, la prima cosa che ho pensato è stato che hanno messo a posto Porta Nuova, però Porta Nuova appunto era stata messa a posto da Fassino prima e poi subito dopo lei ha solo finito i lavori. Ad esempio già queste sono delle piccolezze. Non lo so, il giudizio complessivo è abbastanza neutrale. Diciamo che pensavo facesse molto peggio, tipo la raggia Roma, però non mi dice niente.